quinto il sentiero di raggio si sa così poco di questo sentiero che è difficile indicarlo con un altro nome nel percorrerlo l'uomo rimane sul proprio raggio ed opera nei vari regni della natura su tutti i piani agli ordini del signore del mondo e sotto la sua direzione questo sentiero conduce ad ogni parte del sistema solare eppure lega l'uomo in modo preciso al raggio di sintesi è un sentiero molto complesso poiché richiede capacità per i più complessi calcoli matematici e la facoltà di geometrizzare in modo incomprensibile ai nostri cervelli tridimensionali questo sentiero è percorso dall'uomo per il quale la legge di vibrazione ha profonda importanza egli opera dapprima nel concilio del signore del mondo a shamballah manovrando quella legge sul proprio raggio più tardi risiederà sul pianeta corrispondente al proprio raggio e non sulla terra a meno che non appartenga al raggio del logos planetario che vi governa giunto ad un ulteriore stadio evolutivo passerà nel sole infine acquisita la padronanza su tutto ciò che è connesso alla vibrazione in questo sistema solare passerà al sistema cosmico trasferendosi dal proprio raggio che è solo un sussidiario dell'unico raggio cosmico al raggio cosmico corrispondente poiché l'evoluzione umana in questo sistema solare è quintuplice abbiamo enumerato i cinque principali sentieri fra i quali un maestro di saggezza può scegliere possiamo soltanto accennare e ancora più brevemente ai due sentieri rimanenti poiché pochissimi figli degli uomini potranno seguirli dato l'alto grado di evoluzione che richiedono e il fatto che coloro che lo seguono escono completamente dal sistema solare essi non conducono a sirio come alcuni degli altri sentieri possiamo notare che quattro gruppi rimangono in questo sistema per poi passare in cicli remoti ai piani cosmici un gruppo si trasferisce direttamente su sirio e gli ultimi due dopo l'iniziazione passano direttamente ai piani cosmici senza alcun periodo intermedio sulla terra nel sistema o su sirio questi due sentieri sono il sentiero sul quale si trova il logos stesso che è il sesto e il sentiero dello stato assoluto di figlio che è il settimo ed ultimo in merito al sesto il sentiero sul quale si trova il logos stesso chi ha studiato accuratamente il processo mondiale alla luce della legge di corrispondenza avrà compreso che il logos sui piani cosmici sta sviluppando la visione cosmica interiore come l'uomo fatte le debiti proporzioni tende alla stessa visione nel sistema questo potrebbe essere chiamato lo sviluppo del terzo occhio cosmico il suo segreto si cela nella struttura dell'occhio fisico e studiandola si può ottenere una parziale rivelazione del mistero una certa parte dell'occhio è il nucleo della vista e l'organo della visione stessa il resto rappresenta l'involucro di protezione entrambe le parti sono necessarie e l'una non può esistere senza l'altra così avviene per l'occhio cosmico ma l'analogia si applica a livelli tanto elevati che le parole non fanno che confondere e oscurare la verità alcuni figli degli uomini un nucleo giunto ad una iniziazione elevatissima nel precedente sistema solare costituì un gruppo esoterico attorno al logos quando lo stesso si accinse ad un ulteriore progresso di conseguenza e li formò l'attuale sistema sospinto dal desiderio cosmico di incarnarsi quel gruppo esoterico è rimasto con il logos sul piano atomico o primo piano del sistema e dal lato interiore soggettivo e in senso occulto corrisponde alla pupilla la vera dimora di quelle grandi entità è il piano buddico cosmico gradatamente con arduo sforzo al maestri si sono qualificati per sostituire i membri originari di quel gruppo consentendo così il loro ritorno ad un centro cosmico intorno al quale ruotano questo sistema solare e quello maggiore di sirio solo qualche raro adepto possiede le qualità necessarie che implicano un certo tipo di risposta alla vibrazione cosmica significa una specializzazione della vista interiore e lo sviluppo di un certo grado di visione cosmica al sentiero del logos passano più unità dell'evoluzione devica che non di quella umana e vi giungono attraverso l'evoluzione devica alla quale è possibile accedere seguendo il quinto sentiero di raggio sul quale le due evoluzioni possono fondersi dal quinto sentiero è possibile passare al sesto vediamo infine il settimo sentiero cosiddetto sentiero dello stato assoluto di figlio questa filialità corrisponde al più alto livello al grado di discepolato detto figlio del maestro è lo stato di figlio di un essere superiore al logos del quale non possiamo parlare è il grande e dominante sentiero del karma lo percorrono i signori lipica e tutti coloro che sono idonei per questa attività e che sono vicini al logos in senso stretto e personale è il sentiero degli intimi del logos ai quali egli ha affidato il karma del sistema solare essi conoscono i suoi desideri la sua volontà e i suoi fini e ad essi egli affida l'esecuzione dei suoi ordini questo gruppo associato a logos è legato ad un logos ancora più elevato